The New Stories. La tua informazione libera. Si è arrampicato lungo la parete esterna dell'abitazione degli ex suoceri a San Colombano Certenoli, in provincia di Genova. Ha colpito prima Karin D'Uspres, di 65 anni, poi è entrato in camera da letto, ha sgozzato il cane di piccola taglia e ferito il marito 62enne, Angelo Imporziani. Infine, ha rubato le chiavi della loro Fiat 500 ed è scappato senza metri. La fuga è durata poco, si è schiantato in una curva e ha proseguito a piedi tra i boschi. Intanto, i vicini di casa hanno sentito le urla di aiuto e sono intervenuti, dando così ai carabinieri la possibilità di mettersi quasi subito sulle tracce dell'aggressore. Al termine di una lunga battuta nel bosco, Bandini è stato trovato in un rifugio a circa due ore a piedi da Santo Stefano Daveto. L'uomo non ha mai accettato la fine del rapporto con la sua coetanea, ma negli ultimi tempi, da quando lei aveva iniziato a frequentare un altro ragazzo. Le minacce erano aumentate in gravità e frequenza. Gli investigatori hanno scoperto che dallo scorso venerdì aveva lasciato la propria casa in affitto per nascondersi in un'altra disabitata, situata vicino all'abitazione dei pensionati, ora ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. Inoltre, aveva smesso di utilizzare il cellulare per evitare di essere rintracciato. Il 25enne, nato a Mosca, Russia ma con cittadinanza italiana, avrebbe sostanzialmente confessato, rendendo spontanee dichiarazioni ai carabinieri e ha ribadito le proprie parole durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero, assistito dal suo avvocato. Il PM ha disposto il fermo nel carcere genovese di Marassi. Bandini è accusato del duplice tentato omicidio della coppia e di aver sgozzato il cane dei due, reati aggravati dalla crudeltà. Grazie per la visione! Grazie per la visione!